la parola a franco russo e si è un po capito da alcuni interventi molte delle attività che transform fa le fa diciamo insieme cercando di coinvolgere organizzazioni intellettuali in italia con franco in particolare abbiamo costruito l'osservatorio dell'unione europea poi anche andrea amato poi nel pomeriggio poi presenterà un po il lavoro che anche con passiamo grazie mille per l'invito mi spiace solo che cornella non sia non mi ascolti perché avevo una proposta ovviamente innanzitutto per voi ma che è riferita anche a lei e la proposta è questa si è parlato di crisi organica del capitalismo proprio nella relazione di cornelia io penso che prima della crisi organica del capitalismo o insieme ad essa c'è una crisi organica della sinistra quindi forse il prossimo ventennale del partito della sinistra europea questa è la proposta che avrei fatta a cornelia forse sarebbe molto utile molto produttivo per tutti noi se si organizzassero dei seminari intanto anche non solo per capire la crisi del capitalismo pensiamo alla crisi del capitalismo perché la da decenni e decenni la sinistra l'alternativa è in crisi e perché non riesce a rimettersi in piedi io penso che questo quindi sarebbe un tema piuttosto interessante a cui mi sentirei anche di dare modestamente qualche contributo crisi organica del capitalismo certo c'è la crisi organica del capitalismo ma dentro la crisi organica del capitalismo a differenza della nostra impotenza e le classi dirigenti capitalistiche si muovono rispondono eh organizzano la loro ehm controoffensiva visto che siamo in guerra e attraverso la guerra e organizzano anche il sistema capitalistico cioè le due le tre grandi transizioni energia e ambiente e verde e in verità è semplicemente la una diciamo così una copertura che i i gruppi dirigenti capitalistici mondiale in particolar modo anche quelli europei che più ci interessano stanno riorganizzando il loro sistema sistema produttivo molte cose sono state già dette stamattina cioè a dire che c'è una riorganizzazione appunto militarizzata delle delle produzioni d'altra parte noi sappiamo per esperienza storica che appunto la guerra è sempre uno strumento perché il capitalismo risolva appunto le sue crisi ehm permanenti e così come la Russia lo ricordava Alfonso attraverso la guerra la militarizzazione dell'economia ha risposto alla mh alla mh ai tentativi del del cosiddetto occidente di isolarla economicamente così l'Occidente il cosiddetto occidente democratico e liberale sta rispondendo attraverso la militarizzazione delle produzioni e la mh le sue le sue crisi e quindi i in questa in questa mh situazione io penso che l'analisi andrebbe eh molto accentuata lo facciamo molto come 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 osservatorio Europa su come appunto si vanno riorganizzando le catene del valore su come ci sia una nuova corsa al dominio nel mondo per controllare le cosiddette materie prime critiche che ci sia una corsa nel mondo per controllare le fonti di energie come fra le fonti di energia come tutti ben sappiamo sta risorgendo anche quella nucleare e questa del nucleare mi dà l'occasione per dire che poiché i capitalisti sanno lo sanno quanto è noi che il nucleare costa molto più addirittura delle energie rinnovabili i capitalisti stanno chiedendo a gran voce che le le finanze pubbliche delle istituzioni europee e quelle nazionali a livello dello stato a livello nazionale diano grandi contributi per per fare in modo che il nucleare possa essere diciamo così competitivo con le altre fonti di di energia quindi i conflitti armati si interrelazionano molto bene con le dinamiche che il capitalismo sta innestando appunto per riorganizzare le sue le sue modalità di organizzazione come le sta riorganizzando queste modalità di produzione lo sta organizzando attraverso quello che schmitt avrebbe chiamato i grossroime cioè i grandi blocchi geografici e noi vediamo che appunto si vanno delineando nel mondo alcuni grandi blocchi capitalistici perché questo è l'altro punto che dobbiamo avere ben chiaro noi abbiamo una pluralità di forme di capitalismo certo non non mi metterei mai a a uguagliare il capitalismo tedesco con il capitalismo autoritario e tirannico russo così come non uguaglierei il il sistema capitalistico fascista e reazionario indiano con quello con quello dell'inghilterra però dobbiamo avere la consapevolezza che unico è il sistema che ormai ci domina a livello a livello mondiale del sistema capitalistico il quale sistema capitalistico entra in contraddizione per l'egemonia fra grandi fra grandi fra grandi in blocchi come si caratterizza politicamente l'occidente l'occidente io credo che possa essere caratterizzato con una bella espressione che herman heller coniò nel nel 1933 cioè di autoritarismo liberale che di liberale non ha nulla e di autoritarismo molto e in che consiste l'autoritarismo liberale come si coniuga appunto in questa fase storica con questa riorganizzazione delle produzioni dominate dalla dalla dal militare dalla guerra si coniuga semplicemente con due con due molte con due chiare espressioni che ha molto bene in mente che secondo me sono molto utili anche a noi l'autoritarismo liberale ha due facce a una faccia interventista nei confronti del capitalismo cioè a dire le sonvenzioni pubbliche e l'intervento pubblico per dominare il conflitto sociale è una faccia astensionista per quanto riguarda invece il welfare e i servizi sociali cioè lo stato si astiene da fornire ormai questi servizi che vengono sempre più mercatizzati eh eh in maniera che anche questi campi che il la lotte operaie e popolari hanno sottratto al mercato rientrino all'interno del mercato capitalistico quindi secondo me questa categoria di Heller del del mila novecento e trentatré del cosiddetto liberalismo autoritario può anche aiutarci oggi a comprendere appunto soprattutto le dinamiche istituzionali che cosa fa la sinistra nel nostro continente per contrastare la guerra per contrastare questa nuove forme di colonialismo è stato richiamato il piano il piano Mattei ehm c'è una grande corsa a dominare l'Africa perché tutti sanno che l'Africa è ricca di di risorse di risorse sia umane sia sia naturali e quindi c'è il conflitto fra l'Unione Europea la Cina la Russia soprattutto di questi tre attori all'interno dell'Africa e l'Italia vuol giocare la sua parte e attraverso appunto il piano Mattei anzi essere la punta di lancia dell'Unione Europea in quelle il quel continente. L'Unione Europea è stata detta io non posso che ribadirlo si atteggia sempre più come attore globale e l'Unione Europea è presente ormai sullo scacchiere sullo scacchiere anche asiatico stringe alleanze attraverso con l'Australia e il Giappone la Nato pure si affaccia su quel su quel continente. La Nato è diventata appunto lo strumento militare di contenimento del del e per affermazione del del livello di competitività dell'Europa e la Nato diventa sempre più il punto di riferimento per l'esercito europeo. Eh anche all'interno su questo sono sempre d'accordo abbastanza con Roberto d'accordo con Roberto Musacchio cioè non dobbiamo vedere appunto semplicemente un allineamento negli anni cinquanta dell'Unione Europea agli Stati Uniti perché l'Unione Europea vuole giocare una partita in proprio come attore autonomo all'interno dello scacchiere globale. L'ultimo punto che non so se questi punti d'altro pante erano semplicemente abbastanza ripetitivi di quel che ho sentito stamattina su questo sicuramente non ho una buona non avrò un buon ascolto fra di voi ma però la trasparenza il mio nome mi impongono sempre di dire quel che penso e penso che fate un errore ulteriore ancora una volta a presentarvi alle elezioni e dobbiamo metterci in testa che non si costruisce dal dall'alto una sinistra politica alternativa si costruisce dal basso e consentitemi due battute finali e che sono queste mi ha veramente colpito per questo anche mi dispiace Roberto non mi ha messo in contatto con Cornelia perché amo dire le cose abbastanza di persona ma ha molto colpito la relazione di Cornelia ehm perché ha usato semplicemente i sondaggi cioè ci ha esposto l'Eurobarometro che tutti quanti possiamo leggere e mi ha colpito profondamente perché io ho sempre pensato che una sinistra sia in grado di produrre cognizione sociale autonomamente cioè ho sempre pensato che la sinistra dovesse avere un punto di vista autonomo non perché intellettualmente superiore agli altri ma perché la sinistra essendo radicata all'interno della società produceva conoscenza sociale autonoma diversa quindi dal tipo di di cognizione che a cui giunge il capitalismo il quale giunge attraverso i suoi sistemi cioè l'impresa il governo i grandi centri studi e le università i centri di i centri di ricerca se tutto appoggia l'Eurobarometro beh è segno che i tuoi tentacoli sociali non esistono più ma se non esiste più un radicamento sociale mi chiedo a rappresentanza di chi si va in Parlamento sia nazionale sia a livello sia a livello europeo e in più e in più ogni volta che si conosce una sconfitta non ve l'auguro ovviamente c'è un periodo di frustrazione che dobbiamo che dobbiamo tutti quanti superare perché appunto siamo andati incontro a una sconfitta ma la sconfitta è già nelle cose perché quando anche tu vai in Parlamento europeo l'esperienza della sinistra francese ce l'ha insegnato me lasciò c'aveva il venti il ventitré per cento me lasciò oggi è spaccato in quaranta pezzi all'interno all'interno della della Francia le io vorrei sarei molto interessato non lo dico provocatoriamente a capire come mai all'interno della sinistra di di link quello che era il punto di riferimento della sinistra europea si è prodotto un fenomeno come quello della vaga in rete me lo dovreste spiegare come mai all'interno della sinistra nasce un populismo reazionario di quella di quella portata noi non possiamo continuare a a nascondere dietro questi fatti drammatici che hanno attraversato la sinistra italiana ed europea e non fa semplici semplicemente farci degli auguri siete tanto bravi e andiamo avanti non siamo bravi tant'è vero che siamo stati sconfitti vi ringrazio per l'attenzione sì eh riflessione amare ma eh condivisibili anche se insomma un po' di discussione di apre